Il coscienico di Broadway balzò sul set il più grande uomo d'azione che il cinema abbia conosciuto, il baldo americano. Dovunque nelle main streets si va la preparazione atletica di un campione di decathlon, la grazia di un danzatore classico e l'amore per la vita, la spavalderia, l'esuberanza di un puro sangue. È presidente Wilson, l'America è andata ora alla guerra e noi siamo al cinema a stupirvi cui tanto ha letto ma che non ha mai visto. Il padre di Douglas, un magnate ferroviario, manda a chiamare il figlio a Mazzasette. L'esagitazione di Douglas ha un motivo, oggi finalmente andrà nel West, nelle terre riarse nel regno degli indiani, a Rio Amaro, nell'Arizona, per l'approvazione di una nuova linea ferroviaria richiesta dalla cittadinanza. A quei tempi, come vedete, l'America non era ancora tormentata dal problema della servitù. L'ambio è un'azienda di 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 un Falsi serpenti assonanti. Battista, dice Douglas, non dureresti due settimane contro Nuba Rossa. Sfortunatamente Douglas ha fatto un piccolo errore di calcolo. Questo è il west di cui ha detto. E questo è il levigato lindissimo west del 1917, verso il quale è diretto lui vestito da cowboy di maniera. Ma gli scaltri cittadini vogliono la linea e informati di moderna metropoli a quello di una scottantissima cittadina di frontiera. A Lignaro sarà offerta una riedizione del vecchio west, così aderente alla realtà da non permettere dubbi. Nel tardo pomeriggio, mentre l'uomo dell'est fa conversazione, i suoi ospiti, perché nessuno si faccia del male, gli caricano a salve la pistola. La dama di Douglas alla grande festa è la dolce Geneviève, la bella figlia del sindaco, l'attrice Eileen Pers. Il bianco raduna gli indiani e li sprona a saccheggiare la città. Avranno buon gioco con... Qualcosa è andato storto. Nessuno aveva previsto nella recita una sparatoria vera. Da Douglas si butterebbe avanti e bisogna dirgli l'amara verità. Le sue pallottole sono a salve, le pallottole di tutti sono a salve. Gli si voleva dare un'immagine del vecchio west. C'è stato un imprevisto e sono tutti in trappola. Ma Douglas ricorda di avere le pallottole vere su nel baule. Nessuno si è mai nemmeno provato ad imitare l'abilità di Fairbanks nel condire il dramma con la ginnastica. Nessuno si è mai nemmeno provato ad imitare il dramma con la ginnastica. Nessuno si è mai nemmeno provato ad imitare il dramma con la ginnastica. Uno sguardo amoroso di Genevieve ed Douglas è fuori a braccare il resto dei pelli rosse. L'immagine di Fairbanks, quella di un americano spavaldo, simpaticone e pieno di risorse, dell'uomo d'azione dall'eterno sorriso, era destinata a far solida presa su tutto il mondo. Per la prima e forse l'ultima volta nella storia del cinema, gli indiani galoppano a piedi. Per la prima e forse l'ultima volta nella storia del dramma con la ginnastica.